Whatsapp ragazzi e ragazze è un nuovo video che ci vuoi essere un nuovo video senti per te ci sono altri giochi sullo studio sono simili a questi e qui bisogna tappare in questo caso e fare in modo che metti addosso ai muri che mi si fanno i miei lonti e fare i miei valli al più tempo possibile di gioco ho detto che l'idea di quale gioco assomigli è in grafica un po' meno potente rispetto a quale gioco però di quel tipo se volete potete mettere nei miei commenti il vostro conteggio e anche che gioco assomiglia e non c'è tappare toppare di destra e sinistra sfumandolo in modo re e nemmi è un gioco attente avremmo il mio schemano il nostro emore si può stare a far più schermo destra e sinistra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no.